Conoscete la pittura dei pitocchi? Il pitocchismo, legato ad artisti come Matteo dei Pitocchi e a Giacomo Ceruti, conosciuto come il pitocchetto, è un genere pittorico che aveva come soggetti principali i poveri, i vagabondi, i contadini, i reietti, i pitocchi appunto. In questo dipinto troviamo tre personaggi, una donna che taglia un salume, uno che regge un pollo allo spiedo e un altro uomo che mangia avidamente. I personaggi hanno atteggiamenti grotteschi e un povili, e per questo sono derisi come villani. Ma a proposito di cucina, sapete perché si dice arrosto morto? Perché l'arrosto con lo spiedo gira ed è dunque vivo, l'altro è fermo nel tegame che li fa da bara, quindi morto.